Al mio tre vi farò una imitazione di 1727 Worldstar, questo famoso personaggio presente a Roma Sappiate che questo non è un video di dissing, non è un video di diffamazione, non è un video di offesa E' un video omaggio di stima nei suoi riguardi Vabbè, bando alle ciance Uno, due, tre, via No, non vi pagate la connessione ragazzi No, non vi pagate la connessione ragazzi Vi insegna a guidare, 1727 lo so che vi manda in pussa ragazzi Vi insegna a guidare ragazzi Vi insegna a guidare ragazzi Come si fa? Vi faccio vedere subito ragazzi Un po' di qua, un po' di là Metti la freccia a destra, metti la freccia a sinistra Ed eccomi qui ragazzi Lo so, 1727 vi manda in pussa ragazzi Ecco come si guida ragazzi Fratelli, ho preso il muro fratelli Fermate, fermate, te dico fermate fratelli Ho preso il muro fratelli, fermate Purtroppo ho preso il muro ragazzi, fermatevi Fermi tutti ragazzi Ho preso il muro fratelli Ho preso il muro fratelli Ho sfracato tutto fratelli No, non mi pagate la connessione ragazzi Purtroppo ho preso il muro fratelli Guardate come si guida fratelli Può capitare ragazzi Non è un problema, non è È tutto sotto controllo Non c'è di che stupirsi Non c'è di che Bramentarsi Quei coglioni che mi vengono dietro E che mi dicono Fai questo, fai quello Io vi dico ragazzi Sfatevi fegato i vostri Dov'è il problema, eh? Fratelli, ho sfornato tutto Ho preso il muro fratelli Ho preso Ho preso il muro Ma solo questa ci mancava Fratelli Vi ringrazio cari utenti di Youtube Questo è un video omaggio Ne riguardi di questo ragazzo Giovane Se è un ero del 1996 Iscrivetevi a questo canale di Youtube Commentate Fornitemi la vostra opinione Spero che questa imitazione Vi sia piaciuta Che ho fatto di questo ragazzo giovane Ciao da Leandro Conoscito l'italiano Di Youtube Italia